Ragazzi, ragazzi, ho una bella notizia, ho trovato un lavoro. Sì, ma è fantastico! Quanto ti danno? Madonna, ma che importa? Ma questo è il primo passo verso l'indipendenza, verso la dignità dell'essere umano valorizzato dal lavoro. Sì, sì, come no. Quanto ti danno? Dire il vero non lo so ancora, ho il colloquio e oggi con l'origine. Ma non scendo a compromessi, eh? Io a 30 anni so quanto valgo. Basta con questo lavorare grande, basta con... No, ma sai, è un progetto a lungo termine. Basta con le ferie non pagate e con il lavoro nero. Io voglio mille euro al mese. Ehi, mille euro, così tanto. Costi quel che costi, voglio mille euro. Ottocenti, novecenti e mille. Bravo, Manzillo, lei mi piace, si vede che farà strada, è la nostra società. Benvenuto. Come si sente? Beh, ma indeterminato, giusto? Eh no, quale indeterminato? Per l'indeterminato non ci vuole più. Beh, allora partiamo, partiamo benissimo. Per l'indeterminato non ci vuole più.